allora cominciamo con un libro bellissimo mi direte dici sempre che sono belli si sono belli sono tutti belli libri che scelgo non per niente li scelgo sono mica matta come al solito voi lo vedete al contrario luca ammirati sei pesci guardassero le stelle è una storia bellissima chi è quest'uomo ve lo dico e ve lo leggo luca ammirati che questo bel giovane qui intanto è di sanremo quindi ligure è responsabile interno della sala stampa del teatro ariston dove ogni anno si svolge il festival della canzone italiana è stato assessore alla cultura del comune di perinaldo dove esiste realmente l'osservatorio astronomico raccontato in questo romanzo quindi vi ho già detto che qui si parla di un meraviglioso posto che l'osservatorio astronomico andiamo a leggere un pochino di quarta di copertina samuele a 30 anni una gran voglia di essere felice e la fastidiosa sensazione di girare a vuoto proprio come fa galileo l'amico molto speciale con il quale si confida ogni giorno sognatore nato sfortunato in amore vorrebbe diventare un creativo pubblicitario ma i suoi progetti vengono puntualmente bocciati così di giorno è un reporter precario e mal pagato mentre la sera soddisfa il proprio animo poetico facendo la guida al piccolo osservatorio astronomico di perinaldo sopra sanremo e allora è proprio qui che avviene un meraviglioso incontro che vi racconto adesso questo è il mio posto preferito al mondo le sussurro il mondo che pare aver rallentato fino ad addormentarsi in questa notte perfetta intorno a noi è tutto talmente tranquillo da farci sentire sospesi in una dimensione dove non esistono suoni rumori contaminazioni e altre persone spesso vengo qui a leggere a notare pensieri esprimere desideri è molto bello immaginare che il cielo custodisca i nostri sogni dice emma lo sguardo perso in lontananza sai è quando smettiamo di sognare che diventiamo adulti provo ad anticiparla lei scuote il capo e fa un sorriso che sembra condito da una nota di amarezza no che la nostra anima inizia ad inaridirsi adesso quel velo di tristezza è evidente sul suo viso e se invece i sogni se ne stessero lì appesi a fili sottili continua a riflettere a voce alta non sarebbe una cosa pazzesca ti è mai capitato di immaginarti lassù al posto di una stella accanto a tutti gli altri corpi celesti al di sopra di tutte le cose vorrei annuire con forza certo che mi è capitato mi è successo poco fa mi sta succedendo anche adesso cullati nel silenzio della notte siamo già al di sopra del tempo e delle vicende umane forse siamo due figure destinate ad abitare l'infinito o forse siamo pronte a svanire così da un istante all'altro lasciando una traccia luminosa dietro di noi come stelle cadenti sì mormoro infine mentre un puntino luminescente prende a svolazzarmi intorno e tra poco sarà ancora tutto più magico nell'oscurità più totale alcune macchioline di verde brillante si liberano in aria come polvere di stelle che avvolge ogni cosa le luciole sussulta è stato pierluigi a farmi scoprire questo prodigio che si compie al buio nel chiostro la prima volta in cui le luciole si sono rivelate mi sono sentito travolto da un senso di completezza di perfezione emma sta provando le stesse emozioni senza rendersene conto per la sorpresa perde l'equilibrio afferra la mia mano stringendola forte ci guardiamo negli occhi lì sotto quel cielo per un attimo che profuma di eternità poi le fisso le labbra con loro ribes pensando a come sarebbe baciarla medito medito se non sia il caso di farlo il cuore mi bate all'impazzata ma che storia è questa una favola in cui una bellissima sconosciuta irrompe nella mia vita al termine di un giorno nero una scesa una scena dove gli occhi stanno al posto delle parole l'impulso prevale sulla logica una finestra su un lato del mondo differente che taglia tutti i ponti con il passato ma alla fine la timidezza reciproca prende il sopravvento il momento passa e io desisto rimaniamo a contemplare le luci intermittenti ancora un altro po questo era luca ammirati il libro è bellissimo è anche una storia d'amore ma c'è tanto di più per cui ve lo consiglio e che basta è il primo libro l'abbiamo letto allora cosa dite vi saluto vi saluto vincenzo deve andare ciao non ti preoccupare ci mancherebbe altro elvira ursini ciao l'autrice di croceficio colletto la scorsa settimana è qui con noi grazie è presente fantastico sentito interpretare grazie davvero poi 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 isabella vilceschi ciao gianni che piacere ciao gianni ansaldi ve lo ricordate gianni sapore di mare sapore di sale sapore di mare sapore di te il ragazzo che si innamora di quella meravigliosa donna bionda virna lisi era lui e oggi insieme abbiamo fatto ve l'ho detto prima abbiamo fatto abbiamo presentato il libro di paola servente l'altra volta invece avevamo presentato bruno morchio dove crollano i sogni achille ciao giovanni ciao gianni ciao gianni luciano l'abbiamo salutata non ci credo cosa stefano non ci credi stefania l'abbiamo salutata i quattro di sabrina sabrina comprese l'abbiamo salutata poi chi c'è la mia più grande passione all'astronomia è vero già 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 questo questo allora devi comprare e tra l'altro l'anno scorso purtroppo io non sono potuta andare perché era era ero in vacanza ero già partita l'anno scorso hanno proprio organizzato una gita in questo meraviglioso posto a sanremo sopra vicino a sanremo e all'osservatorio hanno fatto la presentazione di questo romanzo basta ciao è arrivato il mio amico bruno volpi ciao caro ho parlato di te poco fa allora direi di passare alla seconda gianni mi ha venduto le so coni collegamento piera rivera ciao allora ragazzi ci siamo possiamo passare alla lettura del secondo romanzo di una autrice che io amo perché è anche diventata una mia amica e si chiama valeria corciolani questa sera io vi leggo un tratto del morso del ramarro ma valeria corciolani è un'autrice che scrive 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 tantissimo ha cominciato nel 2010 e il suo primo romanzo è stato lacrima di cocodrillo pubblicata da bondadori poi ha scritto altre cose il mostro del ramarro tante altre cose che adesso non voglio non voglio dirle tutte perché altrimenti poi me ne dimentico qualcuno e faccio brutta figura ma vi dico la l'ultima uscita l'ultima uscita è della serie della colf e dell'ispettore rosse e si intitola il peggio per chi resta ultima uscita ma non ultima della serie tenete conto che lei ha già scritto compreso questo che è già disponibile in forma digitale e dal 21 luglio sarà disponibile cartaceo come piace a me dal 21 luglio ma adesso potete già acquistarlo e anzi acquistatelo e di fatto il peggio per chi resta fa parte della serie del della colf e del commissario rossè quindi al suo quinto mi sa che non abbiamo finito con la serie mi sa che deve uscire ancora qualche cosina chissà quando magari magari quest'anno magari l'anno prossimo chi lo sa comunque è un'autrice meravigliosa è proprio una di quelle persone che ti viene da dire ma è vera esiste veramente quando sono così gentili così disponibili così wow così e sapete un'altra persona che è qui in mezzo come un'altra persona così che ho conosciuto proprio sabrina debastiani ecco io ho conosciuto queste persone e sono troppo contenta beh vi leggo il morso del ramarro valeria corciolani non riesco a leggere l'editore o mio dio come si fa o ma proprio che non ci vedo è valeria mi aiuti grazie non ci vedo erba erba moli adesso cominciamo questo è un dialogo erba moli giusto la signora luisa dice da ragazza odiavo l'uncinetto e ora invece guarda ci passo le giornate come si diventa è mia cara la signora luisa scuote piano la testa marisol gorgoglia una delle sue risate contagiose ecco qui signora luisa la catenella è pronta può girare l'occhiello se vuole fare il giro marisol pone con delicatezza l'uncinetto tra le dita tremule della vecchina che le sta seduta di fronte la signora luisa inforca un grosso paio di occhiali dalla montatura scura e antiquata poi avvicina al naso il minuscolo fiore di cotone traforato da cui pendono una fila regolare di punti e il piccolo uncino di metallo argentato conta a fior di labbra controllando i punti tra i polpastrelli come a sgranare un rosario poi volge soddisfatta lo sguardo miope verso marisol brava mia cara esecuzione perfetta e precisa ora con la maglia alta faccio meno fatica e riesco da sola marisol osserva le mani della donnina che arrotolano lentamente il filo intorno al dito per muoversi ritmiche seguendo il movimento dell'uncinetto la pelle candida è talmente sottile che pare di riuscire a seguire il pulsare del sangue nelle vene violacee sembrano mani fatte di cera le due fedi di cui la più piccola è messa a bloccare l'altra più grande cozzano tra loro sull'anulare smagrito con un rumore che le ricorda la slitta di babbo natale marisol avverte un languore in fondo alla pancia una tenerezza infinita una nostalgia senza confini pensa la sua famiglia ai suoi vecchi che probabilmente non vedrà più in questa vita fa girare lo sguardo umido e osserva tutti questi anziani che le stanno intorno molti dei loro familiari vengono a prenderli al termine della giornata di lavoro capisce che non possono fare altrimenti qui la vita è diversa che al suo paese da lei la casa non è mai vuota fratelli grandi che curano i più piccoli poi zie zii cugini tutti insieme a dividere pasti gioie dolori e cose da fare a seguire chi ha più bisogno e ti godi l'enorme ricchezza di respirare la saggezza dei vecchi i loro racconti i loro silenzi con gli sguardi persi nei ricordi qualcosa non va mia cara domanda la signora luisa con la sua vocina bianca e tremolante marisol si asciuga gli occhi e sorride solo un poco di malinconia cosa mangiato oggi di buono signora luisa la donnina posa in grembo l'uncinetto e alza gli occhi a osservare le grosse foglie di magnolia alla ricerca dell'ispirazione fa sparire le labbra palide nello sforzo di ripescare la memoria le basterebbe un filo come sondare con l'indice del gomitolo alla ricerca del capo da cui cominciare abbassa la testa e chiude gli occhi schiocca piano la lingua a ricreare un gusto un sapore ondeggia la dentiera nella speranza di trovare residui che le riconducano non ricordo poi scuote il capo non me lo ricordo sussurra con la voce lamentosa di un bimbo disperato gli occhi enormi dietro le spesse lenti guardano marisol pieni di sgomento e impotenza mentre il lavoro abbandonato in grembo scivola a terra marisol si china a raccogliere fiorellini di pizzo poi afferra con le sue mani brune e morbidi le fragili dita bianche trasparenti della signora luisa e le stringe delicatamente come a infonderle vigore a che importa che ha mangiato forse non era speciale oppure era cattivo così cattivo che ha preferito di dimenticarlo ride contagiosa con i suoi denti bianchi tra le labbra piene mi racconti di quando aveva vent'anni e gli ammiratori non le davano pace sussurra dolcemente facendosi più vicina la vecchina ridacchia pudica mentre le compaiono due fossette birichine sulle guance magre lo sguardo si perde tra le foglie ma questa volta è denso e luminoso avevo un bel personale e mi cucivo i vestiti da sola quel giorno era il 27 aprile 1940 e avevo appena compiuto 18 anni marisol ascolta la vocina che si fa sempre più ferma timbrica sicura osserva quel viso magro che prende colore e vita ascolta incantata quel racconto vivido non comprende proprio tutto e si perde in quei luoghi lontani nel tempo e così differenti dal mondo che ha lasciato eppure i tiepidi palpiti di quel cuore di giovane donna i desideri gli slanci i timori li sente vivi e vicini chissà perché il morso del ramarro di valeria corciolani ecco voi dite cavolo che capitolo intenso è tutto così è una meraviglia è una meraviglia e io non ho ancora finito e mentirai se dicessi che l'ho finito ma me ne ha dato me ne ha dato l'altro ieri quindi non sono ancora riuscita a finirlo e ho dedicato più attenzione a quello che avevo voglia di leggere no chiesto anche qualche suggerimento a valeria e ma è veramente veramente bello quindi mi sto ca soltanto comprarlo mia nipotina francesca sei innamorata di carol eccola qua commossa grande grandissima luci ciao valeria carol allora tesoro se vuoi carol devi metterti in comunicazione oddio metterti in comunicazione che che frase è devi sentirti con claudia ferranti meraviglia è sul serio una meraviglia ragazzi è una scrittrice così allora adesso passiamo a un giallo un thriller psicologico che si intitola qua devo utilizzare il mio amico passiamo proprio da un argomento all'altro come piace a me è l'architetto dei labirinti di marcella nardi marcella nardi è italiana vive in america da un po di anni io ho letto già un suo brano di un ho letto un brano di un suo libro che è morte all'ombra dello space middle la trovate trovate la mia lettura su youtube qua mi sembra che mi conosciate tutti ma per chi non mi conoscesse io ho un canale youtube lucci trattino basso legge dove potete trovare tantissime letture di brani di romanzi e non solo tante fiabe ovviamente e in questo modo avrete l'opportunità di rimanere colpiti dalle letture e quindi procedere all'acquisto io vi consiglio di andare sul mio canale youtube perché in parte che fatto che mi farebbe piacere che vi scriveste e devo dire che da quando ho cominciato questa avventura su facebook il numero degli iscritti è aumentato e quindi ne sono molto felice andiamo a leggere è giusto appunto marcella nardi credo che sia stata forse ce lo siamo dette io e lei non credo è stata la prima ad avermi chiesto io avevo proposto le mie letture ovviamente e lei caspita ha avuto la voglia di scrivermi e quindi è stata la prima persona per la quale ho scritto se ho scritto per la quale ho fatto una lettura adesso vi leggo un altro brano tratto dall'architetto dei labirinti l'edificio oltre gli alberi era stato in un tempo lontano una chiesa e su quello stesso terreno si trovava il vecchio cimitero ora la chiesa era stata trasformata in una grande abitazione una specie di villa steve era all'esterno della chiesa nella parte posteriore vicino agli alti muri di arenaria che circondavano la proprietà aveva percorso tutto il perimetro esterno alla ricerca di un automobile su cui sfogare il suo desiderio di possesso ma fino a quel momento non aveva visto niente di interessante a un tratto si accorse che qualcuno aveva lasciato aperto il cancello posteriore della chiesa e che la luce dell'allarme non lampeggiava non ebbe un attimo d'esitazione entrò i territori proibiti lo avevano sempre affascinato e forse chissà avrebbe messo a segno qualche furtarello fruttuoso se il campo fosse stato libero steve era abituato a vivere di espedienti il giovane camminava furtivamente con le mani in tasca lungo un sentiero elegantemente lastricato che dall'ingresso posteriore portava verso la parte anteriore della chiesa nel backyard il giardino sul retro le piante la facevano da padrona semi di dente di leone vagavano pigramente nell'aria la digitale si alternava coi cespugli ai bordi del sentiero e l'edera aveva iniziato ad arrampicarsi sui muri laterali dell'edificio tutto intorno i bordi del sentiero erano stati piantumati con arbusti di bosso potati a forma rettangolare il pensiero dei cadaveri che un tempo erano seppalliti sotto il suolo che stava calpestando non lo turbava affatto ormai quei pochi resti erano stati rimossi così come le lapidi per il ragazzo i morti tornavano in vita solo nei film che guardava la sera tardi e non era neppure superstizioso le scale erano fatte per passarci sotto e gli specchi per essere rotti la nonna aveva definito la rimozione delle tombe delle lapidi un gran sacrilegio a nome di coloro che non potevano più parlare per sé la donna se l'era presa con i burocrati che avevano decretato il cambiamento dei tempi e il fatto che la casa del signore dovesse essere trasformata in un rifugio privato per vecchi iniziati i lavori anni dopo la sconsacrazione c'era stato qualche vago tentativo di rivendicare i diritti di passaggio su una porzione della proprietà da parte di alcuni cittadini ma la famiglia che aveva acquistato in blocco l'aria era stata ben attenta a scoraggiare gli eventuali visitatori e il concello posteriore veniva tenuto sempre chiuso a lavori terminati ci ha mantenuto lo stile neogotico l'edificio come aveva notato il ragazzo era circondato da un giardino ben curato e dove un tempo c'era il cimitero ora c'era un prato con un sebo e alcune panchine steve pensò che se fosse riuscito a rubare qualcosa sarebbe stata una giusta punizione per la famiglia che non aveva dato il consenso al passaggio su quella parte di terreno se ne era appropriata come fanno spesso i ricchi pensò il ragazzo forse persino sua nonna non avrebbe disapprovato quello che stava facendo e magari lo avrebbe considerato come una specie di moderno robin hood proprio il tipo di uomo che secondo steve doveva essere stato suo padre nonostante tutti i brontolì dell'anziana donna sulle irresponsabilità di quest'ultimo e sulle condanne penali che aveva subito il cielo era coperto l'atmosfera umida la sua maglietta era bagnata di sudore e appiccicata al corpo esile le scarpe da ginnastica che aveva rubato da walmart gli facevano male agli alluci dopo aver raggiunto l'angolo della chiesa steve girò di nuovo davanti a sé apparve l'ingresso principale una luce al cancello avvisava dell'inserimento o meno dell'allarme steve sapeva che la lucetta rossa avrebbe dovuto lampeggiare se l'allarme fosse stato inserito invece non lampeggiava ecco perché era entrato nella proprietà che strano aveva pensato dovrebbe essere sempre inserito avvicinandosi alla facciata principale notò un'altra cosa strana una delle due ante della porta in quercia era socchiusa la tentazione era troppo forte e lui non aveva alcuna intenzione di resistervi spinse la pesante maniglia in ottone la porta si aprì mettendo un cigolio simile a un capito sconsolato non appena oltrepassò la soglia ebbe conferma che davvero c'era qualcosa che non andava e che cosa sarà mi tocca comprare il libro per saperlo mi sembra che la connessione non sia proprio rallentata ditemi che cosa succede soprattutto se riuscite a sentire le letture perché il fatto che non mi vediate in faccia non importa allora intanto saluto chi è arrivato prima di passare all'ultima lettura allora abbiamo chiara ciao chiara mia poi c'è francesco mancuso scusa ritardo stavo scrivendo perdonato ciao stefano mancuso è un altro degli autori che ha scritto la fiaba per morellini editore e altre storie il mostro dagli occhi rossi e altre storie premio nobele alla letteratura subito dice stefano valeria a tratti va e viene ma si sente bene grazie elvira l'importante che si senta tutto bene che si sentano le letture bravissima luce romanzo splendido è sì direi che ci siamo tutti vi ho salutato tutti sarà ciao sarà la vetta è arrivata allora siamo in dirittura d'arrivo che re sono però le 75 mica male è allora spero che l'ultima lettura sia si vede che si stanno connette si stanno ci sono tante persone connesse e quindi il wifi un po ma non so allora siamo arrivati all'ultimo romanzo questa francesca tofanari questa autrice è nata e vive a firenze giornalista pubblicato per nikon lab missa est 2000 nel 2015 che ha ricevuto una targa san freddiano a cena artigiani in firenze nel 2016 e racconto grammatica drammatica mi fa sorridere mi viene già voglia di sapere di che cosa tratti nel 2018 è uscito per l'associazione culturale navicellai il libro sassaiole capirotti san freddiano prima del cul toscani per sempre è stato inserito nell'antologia toscani per sempre invece il racconto anima in svendita nel 2019 ha scritto questo romanzo che è un giallo divertentissimo io ho scelto un brano ovviamente vi leggo soltanto il la sinossi un cassonetto nel cassonetto una birkin so black di hermes nella birkin un paio di scarpette da ballo quattro amiche con la passione per lo shopping diventano un improbabile squadra investigativa tra comportamenti al limite della legalità un direttore del balletto pianucoloso e un ex attore di fotoromanzi un danni nevito di noi altri e il gatto rudolf nureyev riusciranno a risolvere il mistero della ballerina scomparsa in punta di sangue è un romanzo leggero e divertente ma anche un'opportunità per conoscere meglio il dietro le quinte del mondo della danza un mondo tanto affascinante ma che rischia di scomparire l'ingresso di cordelia nel bar la distrasse dai suoi pensieri amorosa esordì la donna in un abitino grigio di lame che le lasciava scoperte le belle gambe fasciate in calze scure ai piedi stivaletti con il tacco e il suo simil chihuahua titano e guinzaglio l'abbigliamento di cordelia era sempre un argomento al centro delle conversazioni tra amiche e stella si stupì del grande cambiamento di look e della donna rispetto all'ultima volta che l'aveva vista se la ricordava piuttosto sciatta e trasandata spesso vestita di nero con leggings aderenti e maglioni in formi e sempre in lotta con il suo peso stella non sapeva che era successo qualcosa nella vita di cordelia e che un anno prima decise in tutti i modi a dimagrire aveva scoperto la dieta di katum dopo mesi di pasti a base di humus e ravanelli dimagrita e più sicura di sé era diventata una persona diversa dall'abbigliamento un po' bizzarro ma sempre molto curata stella non la vedeva da parecchio tempo perché non si frequentavano molto avendo in comune solo l'amicizia con olivia e qualche incontro casuale per un caffè perciò rimase stupita quando cordelia in piena forma fisica prima di sedersi con un cappuccino in mano fece un giro su se stessa mostrandole il suo mini abito che le disse con orgoglio di aver acquistato per 4 euro al mercatino vinte l'attenzione di stella però più che dal vestitino fu attratta dalla borsa che cordelia aveva appoggiato sul divanetto di finta pelle blu continuava a fissarla pensando che il cambiamento della donna non poteva essere stato tale da potersi permettere una birkin so black di hermes stella aveva un occhio clinico per le borse e una tendenza all'acquisto compulsivo la collezione che riempiva un intero armadio di casa sua andava dalle grandi firme per lo più non autentiche perché il suo stipendio non le permetteva quelle vere a borse di brand non troppo costosi aveva capito subito che quella di cordelia non era una borsa qualunque che si può trovare buttata sulle coperte dei venditori ambulanti o sul banco di un mercato quella era il sacro graal delle borse il suo sogno il suo sogno inavvicinabile la stessa che ogni giorno la sua collega sara le sventolava sotto il naso entrando in sala prove vantandosi di averla acquistata nella boutique Hermès di Parigi stella chiesa a cordelia dove avesse preso la borsa cordelia poteva avere tanti difetti ma era di una sincerità a volte disarmante un'altra si sarebbe inventata il regalo di una zia o l'acquisto in un negozio vintage ma lei non ebbe problemi a dire che l'aveva appena trovata dentro un cassonetto e che anche se non era proprio il suo genere sarebbe stato un peccato lasciarla lì una volta ripulita da qualche pezzetto di pomodoro e ben disinfettata con la mucchina che portava sempre con sé era tornata come nuova spiegò a stella che non poteva capacitarsi del fatto che qualcuno avesse buttato via una borsa così preziosa cordelia le disse che pensava di regalarla a olivia a cui piacevano molto le borse come del resto ogni genere di capo di abbigliamento proprio mentre cordelia stava pronunciando il suo nome olivia entrò nel bar un po' traferata ordinò il suo solito marocchino decaffeinato e si sedette accanto alle amiche appena finito di scrivere un pezzo su una mostra di arte contemporanea un'installazione di riviste di storia della seconda guerra mondiale appoggiate una sopra l'altra per terra sotto la luce di una lampadina aveva appena finito di fare quello volete ridere le riviste erano accattestate un po alla rinfusa un visitatore alla volta poteva a consultarle per poi rimetterle a posto nello stesso modo in cui le aveva trovate ma io non lo sapevo così ho pensato bene di sistemarle mettendole anche in ordine di data mi hanno praticamente cacciata dal museo per fortuna non mi ero ancora presentata come giornalista comunque ho scritto un bel articolo tenuto conto che della mostra non ci ho capito niente questa era ultimamente la vita di olivia una serie di mostre di arte contemporanea di artisti minori per lo più incomprensibili almeno a suo giudizio non le era chiaro se la sua caposervizio le facesse seguire a lei perché la riteneva particolarmente preparata sull'argomento o e questa era probabilmente la risposta corretta perché gli altri giornalisti si rifiutavano di andarci mentre cordeglia si faceva una gran risata stella non si stupì più di tanto conoscendo la tendenza ossessivo compulsivo di olivia per questo non dette molta soddisfazione all'amica e riportò l'argomento sulla borsa dimenticandosi anche del motivo per cui le aveva chiesto di incontrarla la borsa del cassonetto come l'aveva ribattezzata cordeglia fu esaminata e le tre donne arrivarono alla conclusione che fosse stata rubata da qualcuno che non conoscendo nel valore l'aveva accettata via dopo aver preso portafoglio cordeglia infatti disse che all'interno aveva trovato solo alcuni trucchi e un paio di scarpe che tiro fuori dalla sua shopping bag s lunga erano scarpette da ballo con la punta in punta di sangue francesca tofanari bene direi che abbiamo finito che ora abbiamo fatto le 7 10 siamo stati bravini sorriso contagioso capacità di capire l'attenzione bella voce che manca credo nulla ma grazie stefano grazie mille allora intanto vi faccio rivedere i romanzi che ho letto questa sera che sono sei pesci guardassero le stelle se perché poi mi sei pesci guardassero le stelle di luca ammirati il morso del ramaro di valeria corciolani poi abbiamo aspettate perché gli titoli non li voglio nemmeno memorizzare perché sono matta l'architetto dei labirinti fatemi sapere se vi sono piaciuti e in punta di sangue di francesca tofanari allora abbiamo finito adesso aspetta un pochino i commenti non mi aveva ancora dato fastidio il nasino che inizia da me fastidio adesso allora io e caro l'aspettiamo un po i commenti rispetto ai testi camilla gioppi non c'è perché altrimenti so già che avrebbe scritto li ho comprati già tutti li sto comprando tutti piaciuti tanto valeria corciolani dice che le sono piaciuti tanto bene perché in effetti sono tutti un po di generi diversi in attesa dei vostri commenti bravissima come sempre bravi gli autori grazie vi comunico che sabato abbiamo due appuntamenti ce lo siamo detti alle 16 con francesco brunetti e alle 17 qui la connessione con isabella vilceschi poi scusate stavo leggendo stefano pasarone dice ti presenti quella bambola per favore ma certo hai ragione perché tu sei una new entry quindi non lo sai questa meravigliosa bambola peraltro stasera ho parlato anche di una ballerina e quindi sembrava proprio fatta apposta questa meravigliosa bambola è una creazione di claude ho parlato anche di una russa Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.